Una grande produzione, noi facciamo anche i trasformati di veli annurche, tutte le verdure che vede è tutta produzione nostra, kiwi, melograni, agrumi. La nostra azienda si trova a Riardo, conosce la zona di Teano, in quella zona là, e teniamo il punto vendita via Toscanella dove vendiamo anche al dettaglio. I napoletani rispondono sempre bene con i nostri prodotti e poi la mela annurca, sapete bene, è la regina delle mele, per cui ci dà grande soddisfazione.